Guardate questa cucciolina, quanto è timida, guardate i suoi occhi spaventati, è tanto piccina, due mesi e mezzo, quasi tre, è arrivata qui in Canile un paio di settimane fa, portata in uno scatolo di cartone con un'altra sorella, tutte e due spaventatissime, tra i loro stessi escrementi, hanno fatto un viaggio di mezz'ora così in quelle condizioni per arrivare da noi, povere piccole, ecco perché sono ancora tanto spaventate. C'era lei, Misha, con un'altra sorellina, che poi vi presenterò, che abbiamo chiamato Masha. La sera poi cos'è accaduto? Che i vigili ci hanno ancora chiamato e ci hanno detto che era stata trovata nella stessa zona una terza sorellina, ancora più piccola, e lei l'abbiamo chiamata Mu. Misha, Masha e Mu sono qui in Canile, quindi da oltre due settimane, e aspettano, aspettano di uscire, perché qui sono tristi e sole, non hanno più la loro mamma, alla quale sono state strappate sicuramente, perché se sono finite in una proprietà, non ci sono andate da sole le piccine, loro non si sarebbero mai allontanate dalla mamma. Qualcuno le ha prese, ci ha giocato per un po', e poi le ha buttate in una proprietà. Troppo bello così, sì, bello per chi si diverte sulla loro pelle, non certo per loro, poveri cuccioli. Adesso per Misha cerchiamo una bellissima famiglia, lei deve essere felice nella vita, non deve mai più avere paura, e soprattutto non deve crescere in un box, perché se crescesse in un box il suo carattere si danneggierebbe per sempre, perché è quello che accade in Canile purtroppo, dove non ci sono stimoli, dove chi opera, chi lavora è in numero nettamente inferiore a quello dei cani ricoverati. Piccola Misha, sei bellissima, ti adotteranno, sì, vedrai. Speriamo però che accada presto. Ciao tesorina, ciao amore, ciao, ciao piccina.